di italo calvino da marco valdo ovvero le stagioni in città il giardino dei gatti ostinati la città dei gatti e la città degli uomini stanno l'una dentro l'altra ma non sono la medesima città pochi gatti ricordano il tempo in cui non c'era differenza le strade e le piazze degli uomini erano anche le strade e piazze dei gatti e i prati e i cortili e i balconi e le fontane si viveva in uno spazio largo e vario ma già ormai da più generazioni i felini domestici sono prigionieri di una città inabitabile le vie ininterrottamente sono corse dal traffico mortale delle macchine schiacciagatti in ogni metro quadrato di terreno dove s'apriva un giardino o un'area sgombra o i struderi di una vecchia demolizione ora torreggiano condomini caseggiati popolari grattacieli nuovi fiammanti ogni andito è stipato dalle auto in parcheggio i cortili a uno a uno vengono ricoperti in una soletta e trasformati in garage o in cinema o in depositi merci o in officine e dove si stendeva un alto piano ondeggiante di tetti bassi cimase altane serbatoi d'acqua balconi lucernari tettoie di lamiera ora si innalza il sopraelevamento generale d'ogni vano sopraelevabile spariscono i dislivelli intermedi tra l'infimo suolo stradale e l'eccelso cielo dei superattici il gatto delle nuove nidiate cerca in vano l'itinerario dei padri l'appiglio per il soffice salto dalla balaustra al cornicione alla grondaia per la scattante arrampicata sulle tegole ma in questa città verticale in questa città compressa dove tutti i vuoti tendono a riempirsi ed ogni blocco di cemento a compenetrarsi con altri blocchi di cemento si apre una specie di contro città di città negativa che consiste di fette vuote tra muro e muro di distanze minime prescritte dal regolamento edilizio tra due costruzioni tra retro e retro di due costruzioni è una città di intercapedini pozzi di luce e canali da reazione passaggi carrabili piazzole interne accessi agli scantinati come una rete di canali secchi su un pianeta di intonaco e catrame ed è attraverso questa rete che rasente i muri corre ancora l'antico popolo dei gatti marco valdo certe volte per passare il tempo seguiva un gatto era l'intervallo del lavoro tra la mezza e le tre quando tranne marco valdo tutto il personale andava a casa a mangiare e lui che si portava la colazione nella borsa apparecchiava tra le casse del magazzino masticava il suo boccone fumava un mezzo toscano e girellava lì intorno solo e ozioso aspettando la ripresa in quelle ore un gatto che facesse capolino da una finestra era sempre una compagnia benvenuta e una guida per nuove esplorazioni aveva fatto amicizia con un soriano ben pasciuto fiocco celeste al collo certamente alloggiato presso qualche famiglia benestante questo soriano aveva in comune con marco valdo l'abitudine della passeggiata di primo dopo pranzo ne nacque naturalmente un'amicizia seguendo l'amico soriano marco valdo aveva preso a guardare i posti come attraverso i tondi occhi d'un micio e anche se erano i soliti dintorni della sua ditta li vedeva in una luce diversa scenari di storie gattesche con collegamenti praticabili solo da zampe felpate e leggere sebbene il quartiere dall'esterno sembrasse povero di gatti ogni giorno nei suoi giri marco valdo faceva conoscenza con qualche muso nuovo e bastava un gnaulio uno sbuffo un tendersi del pelo su una schiena arcuata per fargli intuire legami e intrighi e rivalità tra loro in quei momenti credeva già ad essere entrato nel segreto della società dei felini ed ecco si sentiva scrutato da pupille che diventavano fessure sorvegliato dalle antenne dei baffi tesi e tutti i gatti attorno a lui sedevano impenetrabili come sfingi il triangolo rosa del naso convergente sul triangolo nero delle labbra e solo a muoversi era il vertice delle orecchie con un guizzo vibrante come un radar si giungeva al fondo d'una stretta intercapedine tra squalli di muri ciechi e guardandosi attorno marco valdo vedeva che tutti i gatti che l'avevano guidato fin là erano spariti tutti insieme non si capiva da che parte anche il suo amico soriano lasciandolo solo il loro regno aveva territori cerimonie usanze che non gli era concesso di scoprire in compenso dalla città dei gatti saprivano spiragli insospettati sulla città degli uomini e un giorno fu proprio il soriano a guidarlo alla scoperta del grande ristorante biarriz chi voleva vedere il ristorante biarriz non aveva che da assumere la statura d'un gatto cioè stendersi carponi gatto e uomo in questo modo camminavano intorno ad una specie di cupola ai cui piedi davano certi bassi finestrini rettangolari seguendo l'esempio del soriano marco valdo guardò giù erano lucernari con il vetro aperto a tagliola da cui prendeva aria e luce il lussuoso salone al suono di violini zigani volteggiavano pernici e quaglie dorate su vassoi d'argento tenuti in equilibrio dalle dita bianco guantate dei camerieri in frac o più precisamente sopra le pernici e i fagiani volteggiavano i vassoi e sopra i vassoi i guanti bianchi e sospeso in bilico sulle scarpe di vernice dei camerieri il lucido parquet da cui pendevano palme nane in vaso e tovaglie e cristallerie e secchi come campane con una bottiglia di champagne per batacchio tutto capovolto perché marco valdo per temore d'essere visto non voleva sporgere la testa dentro il finestrino e si limitava a guardare la sala rispecchiata all'incontrario nel vetro obliquo ma più che i finestrini della sala erano quelli sulle cucine ad interessare il gatto guardando nella sala si vedeva di lontano e come trasfigurato ciò che nelle cucine appariva ben concreto e a portata di zampa come un uccello spennato o un pesce fresco ed era appunto dalla parte delle cucine che il soriano voleva guidare marco valdo o per un gesto d'amicizia disinteressata o perché piuttosto sperava nell'aiuto dell'uomo per una delle sue incursioni marco valdo invece non voleva staccarsi dal suo bel vedere sul salone da principio come affascinato dalla gala dell'ambiente e poi perché là qualcosa aveva calamitato la sua attenzione tanto che vincendo il timore d'essere visto faceva continuamente capolino a testa in giù nel mezzo della sala proprio sotto quel finestrino c'era una piccola peschiera di vetro una specie d'acquario in cui nuotavano delle grosse trote s'avvicinò un cliente di riguardo con un cranio calvo e lucido nero vestito e con la barba nera lo seguiva un vecchio cameriere in frac che teneva in mano una reticella come se andasse per farfalle il signore in nero guardò le trote con aria grave attenta poi alzò una mano e con un lento gesto solenne ne indicò una il cameriere immerse la reticella nella peschiera inseguì la trota designata la catturò si diresse alle cucine reggendo davanti a sé come una lancia la rete in cui si dibatteva il pesce il signore in nero grave come un magistrato che ha combinato una sentenza capitale andò a sedersi in attesa del ritorno della trota fritta alla mugnaia se trovo il modo di gettare una lenza di quassù e far abboccare una di queste trote pensò marco valdo non potrò essere accusato di furto ma tutt'al più di pesca non autorizzata e senza dar retta i miagolì che lo chiamavano dalla parte della cucina andò a cercare i suoi arnesi da pesca nessuno nel salone affollato del biarriz vide il sottile lungo filo armato d'amo ed esca calare giù giù fin dentro alla peschiera l'esca la videro i pesci e si gettarono nella mischia una trota riuscì a mordere il verme e subito prese a salire a salire uscì dall'acqua guizzando argentea volò in alto sopra le tavole imbandite e i carrelli degli antipasti sopra la fiamma azzurra dei fornelli per le crepes susette e sparì nel cielo del finestrino marco valdo aveva tirato la canna con lo scatto e l'energia del provetto pescatore tanto da far finire il pesce alle sue spalle la trota aveva appena toccato terra quando il gatto si slanciò quel poco di vita che le restava la perse tra i denti del soriano marco valdo che in quel momento aveva abbandonato la lenza per correre ad acchiappare il pesce se lo vide portar via di sotto il naso con l'amo e tutto fu lesto a mettere un piede sulla canna ma lo strappo era stato così forte che all'uomo restò solo la canna mentre il soriano scappava col pesce che si tirava dietro il filo della lenza traditore d'un micio era sparito ma stavolta non gli scappava c'era quel lungo filo che lo seguiva e indicava la via che aveva preso pur avendo perso di vista il gatto marco valdo inseguiva l'estremità del filo ecco che scorreva su per un muro scavalcava un poggiolo serpeggiava per un portone veniva inghiottito in uno scantinato marco valdo inoltrandosi in luoghi sempre più gatteschi arrampicandosi su tettoie scavalcando ringhiere riusciva sempre a cogliere con lo sguardo magari un secondo prima che sparisse quella mobile traccia che gli indicava il cammino preso dal ladro ora il filo si snoda per il marciapiede d'una via in mezzo al traffico e marco valdo correndogli dietro è ormai quasi arrivato ad afferrarlo si butta a pancia a terra ecco la chiappa era riuscito ad afferrare il capo del filo prima che sgusciasse tra le sbarre di un cancello dietro un cancello mezzo arrugginito e due pezzi di muro rincalzati da piante rampicanti c'era un piccolo giardino incolto con in fondo una palazzina dall'aria abbandonata un tappeto di foglie secche copriva il viale e foglie secche giacevano dappertutto sotto i rami dei due platani formando addirittura delle piccole montagne sulle aiole uno strato di foglie galleggiava nell'acqua verde ed una vasca intorno se levavano edifici enormi grattacieli con migliaia di finestre come tanti occhi puntati con disapprovazione su quel quadratino di due alberi poche tegole e tante foglie gialle sopravvissuto nel bel mezzo d'un quartiere di gran traffico e in questo giardino appollaiati sui capitelli e sulle balaustre distesi sulle foglie secche delle aiole arrampicati al tronco degli alberi o alle grondaie fermi sulle quattro zampe con la coda a punto interrogativo seduti a lavarsi il muso erano gatti tigrati gatti neri gatti bianchi gatti pezzati soriani angora persiani gatti di famiglia e gatti randagi gatti profumati e gatti tignosi marco valdo capì d'essere finalmente giunto nel cuore del regno dei gatti nella loro isola segreta e dall'emozione quasi s'era dimenticato del suo pesce era rimasto il pesce appeso per una lenza al ramo d'un albero fuori portata dei salti dei gatti doveva essere caduto dalla bocca del suo rapitore in qualche maldestra mossa forse per difenderlo dagli altri forse per sfoggiarlo come una preda straordinaria il filo s'era impigliato e marco valdo per quanti strattoni desse non riusciva a liberarlo una lotta furiosa s'era intanto accesa tra i gatti per raggiungere questo pesce irraggiungibile ossia per il diritto di tentare di raggiungerlo ognuno voleva impedire agli altri di saltare si lanciavano l'uno contro l'altro si azzuffavano per aria roteavano avvinghiati consibili lamenti sbuffi atroci gnauli e finalmente una battaglia generale si scatenò in un turbine di foglie secche crepitanti marco valdo dopo molti strappi inutili ora sentiva che la lenza s'era liberata ma si guardava bene dal tirare la trota sarebbe cascata proprio in mezzo a quella mischia di felini inferociti fu in quel momento che dall'alto dei muri del giardino prese a cadere una strana pioggia resche teste di pesce code e anche pezzi di polmone e coratella subito i gatti si distrassero dalla trota appesa e si gettarono sui nuovi bocconi per marco valdo era il momento buono di tirare il filo e recuperare il suo pesce ma prima che avesse avuto la prontezza di muoversi da una persiana del villino uscirono due mani gialle e secche una brandiva una forbice l'altra una padella la mano con la forbice salsa sopra la trota la mano con la padella si sporge sotto la forbice taglia il filo la trota cade nella padella mani forbice padella si ritirano la persiana si chiude tutto nello spazio d'un secondo marco valdo non capisce più niente anche lei è amico dei gatti una voce alle sue spalle lo fece voltare era circondato di donnette certune vecchie vecchie con in testa cappelli fuori moda altre più giovani con l'aria di zitelle e tutte portavano in mano nella borsa cartocci con avanzi di carne o di pesce e certune anche un tegamino con del latte mi aiuta a buttare questo pacchetto di là dal cancello per quelle povere bestiole tutte le amiche dei gatti convenivano a quell'ora attorno al giardino delle foglie secche per portare da mangiare ai loro protetti ma ditemi perché stanno tutti qua questi gatti si informò marco valdo e dove vuole che vadano solo questo giardino c'è rimasto vengono qui i gatti anche dagli altri quartieri per un raggio di chilometri e chilometri e anche gli uccelli interloqui un'altra su questi pochi alberi si sono ridotti a viverci a centinaia e centinaia e le rane stanno tutte in quella vasca e la notte gracidano gracidano si sentono anche dal settimo piano delle case intorno ma di chi è questa villetta chiese marco valdo adesso davanti al cancello non c'erano soltanto quelle donnette ma anche altra gente il benzinaio di fronte i garzoni di un'officina il postino il verduriere qualche passante e tutti donne uomini non si fecero pregare a dargli risposta ognuno voleva dire la sua come sempre quando si tratta di un argomento misterioso e controverso ed una marchesa che ci abita ma non si vede mai le hanno offerto milioni e milioni le imprese edilizie per questo pezzettino di terreno ma non vuole vendere cosa vuole che se ne faccia dei milioni una vecchietta sola al mondo preferisce tenersi la sua casa anche se va a pezzi pur di non essere obbligata a traslocare è l'unica superficie non costruita nel centro della città aumenta di valore ogni anno le hanno fatto delle offerte offerte soltanto anche intimidazioni minacce persecuzioni sapeste gli impresari e lei resiste resiste da anni è una santa senza di lei dove andrebbero quelle povere bestiole figuriamoci se le importa qualcosa delle bestiole a questa vecchia spilorcia l'avete mai vista dar loro qualcosa da mangiare ma cosa volete che dia ai gatti se non ha niente per sé è l'ultima discendente d'una famiglia decaduta li odia i gatti l'ho vista rincorrerli a umbrellate perché le calpestavano i fiori delle aiole ma di che fiori parlate questo giardino io l'ho sempre visto pieno d'erbacce marcovaldo capì che sulla vecchia marchesa le opinioni erano profondamente divise chi la vedeva come una creatura angelica chi come una vara e un egoista e anche con gli uccellini mai che dia loro una briciola di pane dall'ospitalità vi sembra poco tal quale come le zanzare volete dire vengono tutte di qua da quella vasca d'estate le zanzare ci mangiano vivi tutto per colpa di quella marchesa e i topi è una miniera di topi questa villa sotto le foglie secche hanno le loro tane e di notte escono per quel che riguarda i topi ci pensano i gatti o i vostri gatti se dobbiamo fidarci di loro perché cosa ha da dire contro i gatti qui la discussione degenerò in una lite generale dovrebbe intervenire l'autorità sequestrare la villa gridava uno con che diritto protestava un altro in un quartiere moderno come il nostro una topaia così dovrebbe essere proibito ma se io il mio appartamento l'ho scelto proprio perché ha la vista su questo poco di verde ma che verde pensate al bel grattacielo che potrebbero farci anche marco valdo avrebbe avuto da dire la sua ma non trovava il momento adatto finalmente tutto d'un fiato esclamò la marchesa mi ha rubato una trota la notizia inaspettata diede nuovi argomenti ai nemici della vecchia ma i difensori se ne servirono come d'una prova dell'indigenza in cui versava la sfortunata nobile donna gli uni e gli altri furono d'accordo sul fatto che marco valdo dovesse andare a bussare alla sua porta e a chiederle ragione il cancello non si capiva se fosse chiuso a chiave o aperto comunque sapriva spingendo con un lamentoso cigolio marco valdo si fece largo tra le foglie e i gatti salì i gradini del portico bussò forte all'uscio a una finestra la stessa da cui si era affacciata la padella si alzò lo scuro della persiana in quell'angolo si vide un occhio rotondo e turchino una ciocca dal colore indefinibile dei capelli tinti e una mano secca secca una voce che diceva chi è chi bussa arrivò insieme ad una nuvola d'odore d'olio fritto io signora marchesa sarei quello della trota spiegò marco valdo non per disturbarla era solo per dirle che la trota nel caso lei non lo sapesse quel gatto l'aveva rubata a me che sarei quello che l'aveva pescata tant'è vero che la lenza i gatti sempre i gatti fece la marchesa nascosta dietro la persiana con una voce acuta e un po nasale tutte le mie maledizioni vengono dai gatti nessuno sa cosa vuol dire prigioniera notte e giorno di quelle bestiacce e con tutta l'immondizia che la gente butta da dietro i muri per farmi dispetto ma la mia trota la sua trota cosa vuole che ne sappia della sua trota e la voce della marchesa diventava quasi un grido come volesse coprire lo sfrigolio d'olio in padella che usciva dalla finestra insieme all'odorino di pesce fritto come posso capire qualcosa con tutto quel che mi piove in casa sì ma la trota la presa o non la presa con tutti i danni che subisco per via dei gatti a vorrei proprio vedere io non rispondo di nulla dovessi dire io quello che ho perso coi gatti che mi occupano da anni casa il giardino la mia vita in balia di queste bestie vale a trovare i proprietari per farteli fondere i danni danni una vita distrutta prigioniera qui senza poter muovere un passo ma scusi chi la obbliga a restare dallo spiraglio della persiana appariva ora un occhio tondo e turchino ora una bocca con due denti sporgenti per un momento si vide tutto il viso e a marcovaldo sembrò confusamente un muso di gatto loro mi tengono prigioniera loro i gatti o se me ne andrei quanto darei per un appartamentino tutto mio in una casa moderna pulita ma non posso uscire mi seguono si mettono di traverso ai miei passi mi fanno inciampare la voce divenne un sussurro come confidasse un segreto hanno paura che venda il terreno non mi lasciano non permettono quando vengono gli impresari a propormi un contratto dovrebbe vederli i gatti si mettono di mezzo con le unghie hanno fatto scappare anche un notaio una volta avevo il contratto qui stavo per firmare e sono piombati dalla finestra hanno rovesciato il calamaio strappato tutti i fogli marcovaldo si ricordò tutta un tratto dell'ora del magazzino del caporeparto si allontanò in punta di piedi sulle foglie secche mentre la voce continuava a uscire di tra le stecche della persiana avvolta in quella nube come d'olio in padella mi hanno fatto anche un graffio ho ancora il segno qui abbandonata in balia di questi demoni venne l'inverno una fioritura di fiocchi bianchi guarniva i rami e i telli e le code dei gatti sotto la neve le foglie secche si sfacevano in poltiglia i gatti li si vedeva poco in giro le amiche dei gatti meno ancora i pacchetti di resche venivano consegnati solo al gatto che si presentava a domicilio nessuno da un bel po aveva più visto la marchesa dal comignolo del villino non usciva più fumo un giorno di nevicata nel giardino erano tornati tanti gatti come fosse primavera e miagolavano come in una notte di luna i vicini capirono che era successo qualcosa andarono a bussare alla porta della marchesa non rispose era morta a primavera al posto del giardino un'impresa di costruzioni aveva impiantato un gran cantiere le scavatrici erano scese a gran profondità per far posto alle fondamenta il cemento colava nelle armature di ferro un'altissima gru porgeva sbarre agli operai che costruivano le incastellature ma come si faceva a lavorare i gatti passeggiavano su tutte le impalcate facevano cadere mattoni e secchi di calcina s'azzuffavano in mezzo ai mucchi di sabbia quando s'andava per innalzare un'armatura si trovava un gatto appollaiato in cima che sbuffava in ferocito mici più sornioni s'arrampicavano sulle spalle dei muratori con l'aria di voler farli fusa e non c'era verso di scacciarli e gli uccelli continuavano a fare il nido in tutti i tralicci il casotto della gru sembrava una voliera e non si poteva prendere un secchio d'acqua senza trovarlo pieno di ranocchi che gracidavano e saltavano